cari amiche e cari amici vi chiedo una mano perché vorrei capire un attimo la dinamica della cenna come dire ho pubblicato un video sull'altro canale che non nomino non metto neanche il link e i padroni del virtuale me lo stanno tenendo bassissimo 61 visualizzazioni dopo più di un'ora mi tengono basso nei video mi impediscono di crescere mediamente mi levano 10 iscritti al giorno e quindi voglio vedere però se così un piccolo esperimento riesco a mandare su un po su di visualizzazione il video con questo stratagem vi prepegherei anche di condividerlo è il primo video che trovate sul sull'altro canale e cioè l'ultimo video che ho pubblicato quindi chi va proprio sulla pagina del canale lo troverà come primo video e inizia con so il video inizia con so e vi chiedo di di vederlo dura 6 minuti e 32 non metterò tag niente qui sotto a questo video che state vedendo e voglio vedere se con questo metodo riesco almeno a portarlo a 7 800 visualizzazioni da qui a stasera perché è impossibile quello che stanno facendo e non ve lo posso neanche dire perché qui ormai e ricordano della voce sono sono molto raffinati quindi fatemi questa cortesia andate sull'altro canale è il primo video guardatelo e fatemi la cortesia di condividetelo perché una curiosità voglio sapere se con questo stratagemma qualche video può andare su oppure non c'è niente da fare ripeto il video vi dovete regolare dal fatto che dura 6 minuti e 32 e inizia con so grazie grazie di cuore a tutti Marco Cosmo